Un saluto dal TG della mobilità, parliamo di mobilità sostenibile, chi intende installare colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in uno degli oltre 7 mila comuni connessi alla rete Enel, ora può sapere in anticipo la tipologia di lavori necessari, l'eventuale necessità di modifica agli impianti e le tempistiche per effettuare le operazioni. Basta collegarsi al sito e-distribuzione.it e accedere a una sezione ad hoc sviluppata assieme ai principali operatori dei servizi di ricarica, lì si può simulare la tipologia di lavori necessari per installare e connettere alla rete un'infrastruttura di ricarica da rendere poi disponibile a chi decide di utilizzare un veicolo elettrico.